Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Oggi siamo tornati a parlare di audio e più nello specifico del Behringer Flow 8. Tutto questo subito dopo la sigla. E quindi benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Come anticipato, oggi andremo a recensire questo Behringer Flow 8. Un mixer digitale a tutti gli effetti con 8 ingressi e 4 uscite. Ma lo andremo a vedere più avanti. Questo video è con il bundle di Toman con la sua valigetta originale. Ma adesso quello che a noi ci interessa è il mixer effettivo. Il mixer di per sé si presenta veramente molto molto bene. Ha un po' un stile retro e la cosa più bella, oltre ad essere fatto che è completamente in ferro barra metallo, quindi è costruito veramente molto molto bene, è il prezzo veramente molto competitivo. Stiamo parlando di circa 250 euro di mixer, che per un mixer digitale è veramente pochissimo. Però ci sono alcune limitazioni che dopo vi andrò a spiegare. Ma adesso vi spiegherò un pochettino tutte le varie sezioni di questo mixer. Innanzitutto andiamo sugli ingressi. Gli ingressi che abbiamo sul nostro mixer sono due XLR da 48V, dove possiamo collegare microfoni a condensatore, due ingressi XLR classici o con possibilità di collegarci un jack mono, due ingressi mono o stereo, che ci permette di avere due ingressi stereo oppure quattro ingressi mono. Possiamo impostare tutto tramite app del tablet. Le uscite invece sono diverse. Abbiamo due uscite XLR, main L, main R, più due uscite mono monitor send. In più abbiamo un'uscita cuffie e l'ingresso per il foot switch. Quindi praticamente ci permette di andare a collegare questo pedale, dove possiamo abilitare ad esempio effetti e molto altro ancora. La parte dei fader è un pochettino più incasinata, perché adesso vi spiegherò più neospecifico come funziona. Ogni fader praticamente ha una funzione diversa. Infatti ogni fader va a richiamare la funzione di ogni singolo canale. Ma c'è un ma. Accendiamo il nostro mixer, perché adesso vi spiegherò più neospecifico come funzionano i nostri fader, a differenza dei classici mixer digitali con i fader motorizzati. In questo caso il Flow 8 non ha fader motorizzati, quindi funzionerà in questo modo. Innanzitutto abbiamo diversi layer. Abbiamo il layer del main, il layer del mon 2, mon 1, fx2 e fx1, che praticamente ogni layer richiama una funzione. Ora, andando su quello principale, abbiamo, come dicevo prima, questi 8 fader non motorizzati. E come si fa a capire dove c'è stata una modifica sul nostro fader? Semplicemente ogni canale richiamato avrà questi led, con chiamato l'offset. L'offset praticamente ci dirà che su quel livello c'è una modifica a livello di cross. Come vedete, appena io muovo questo cross, la modifica spegne il led, che ci avvisa che appunto non è stato più toccato il nostro fader su questo livello. Stessa cosa, possiamo cambiare sui vari livelli e andare sul main. Una volta che, come vedete, io vado a toccare sul livello predefinito, cioè dove era rimasto l'ultima volta, il led si spegnerà. Questo perché appunto andiamo a richiamare la modifica. Ora, vi spiego un pochettino meglio appunto i vari fader. E per farvi rivedere meglio, semplicemente ci servirà l'app del tablet, che adesso vi mostro subito. Però, ultima cosa, anche questi fader andranno a toccare, come vedete, sull'fx1 e l'fx2. E tutte le modifiche le potete vedere anche direttamente sul display del nostro mixer. La parte ancora più interessante di questo dispositivo, e che stiamo arrivando quasi alla fine, è a parte la nostra ghiera per permettere di alzare e abbassare il volume del master, del monitor e degli fx, che è attraverso questa appunto sezione. Un'altra parte molto interessante è la parte del bluetooth. Infatti questo dispositivo ha due tipi di G e di bluetooth, però per funzionare, come vedete, se noi premiamo menu, ci entrerà nel menu degli fx. Infatti dovremmo sempre selezionare il main out e poi fare menu. Qui in questo caso avremo il pairing, cioè praticamente la sincronizzazione con il nostro tablet o dispositivo mobile, tipo iPhone o Android. Oppure potremo attraverso questo cursore andare ad impostare anche l'audio in versione di appunto pairing di app, oppure pairing di audio. Quindi possiamo anche collegare un dispositivo audio per trasmettere la musica via bluetooth. Non è su qua il cross bluetooth e usb, ma qui praticamente avremo il volume del bluetooth e usb tramite questo dispositivo. E ovviamente abbiamo anche la possibilità di alzare e diminuire il volume attraverso questa funzione di cuffie. Ma ora, ora come ora, una cosa che ho tralasciato è la parte digitale di questo mixer, che non è la parte digitale dell'FTO mixer, ma digitale di uscita USB. Infatti questo mixer ci permette di avere otto ingressi digitali e otto uscite digitali audio. Tutto può essere sempre ascoltato tramite le cuffie, però appunto ogni singolo canale può essere registrato singolarmente e separatamente. Quindi questo è un ottimo dispositivo per registrare in singola e soprattutto in multitraccia. Bene, se ora siamo qua è perché vogliamo... 3, 2, 1... Bene, e ora se siamo qua è perché siamo arrivati alla parte del test finale di questo mixer. Quindi andremo un secondo a provare con un'impostazione molto semplice, cioè utilizzando un microfono panoramico collegato all'ingresso 1 e un'uscita L mono dall'altra parte al mio mixer per la registrazione, per farvi sentire in live i suoi effetti e tutto, andremo un secondo a testare il tutto. Dall'altro lato invece abbiamo un classico tablet, che qui in questo caso abbiamo già collegato al nostro computer, con l'applicazione Flow 8, che è molto semplice da installare. Infatti basterà andare su Play Store o su App Store nel caso degli iPhone e basterà avviarla. Come vedete in automatico ci darà questo errore, perché praticamente dobbiamo lanciare il pairing sul mixer. Come si fa? Si va nelle impostazioni Main, Menu, qua c'è il pairing, premiamo il tasto, facciamo ancora una volta il click, si accenderà questo led e faremo in automatico ricerca. In automatico il nostro dispositivo cercherà il nostro mixer e saremo subito pronti ad utilizzarlo. Come vedete l'accoppiamento è stato veramente molto veloce e molto semplice. Continuiamo un secondo sulla nostra app, perché ora quello che io vi voglio far vedere assolutamente è la facilità in cui si può programmare questo mixer. È veramente molto semplice e molto sbrigativa. Innanzitutto a livello di immagine, questa è l'immagine default che ci appare sull'applicazione una volta avviato. Ci mostra il nostro mixer e possiamo scegliere su Assistant Setup, quindi praticamente ci dice cosa vogliamo collegare, microfoni dinamici, condensatore, line instrumental e guitar or bass. Quindi ci permette già di essere seguiti, in caso che non sappiamo bene come funziona un mixer, a collegarli nella maniera più corretta. Oppure per chi magari ne sa di più e vuole fare una configurazione manuale, potrà fare semplicemente Start New o Continue in session. Facciamo uno Start New perché in questo momento risetteremo il nostro mixer ai default. infatti sul nostro mixer è apparso che è stato resettato e quindi in conseguenza è proprio come la prima volta che noi lo andiamo ad acquistare. Come vedete in questo momento i vari segnali sono azzerati completamente perché come vedete ci ha impostato il mixer proprio alle cose di fabbrica. Quindi è veramente molto semplice andarlo ad utilizzare. Infatti qui come possiamo vedere abbiamo diversi cross che possiamo alzare e diminuire e qui in diretta sul nostro mixer come vedete si illumina il led dove noi andiamo a toccare sulla matrice. Ripeto, essendo che i cross non sono digitali e motorizzati, ovviamente i movimenti come vedete vengono visti dalla nostra applicazione ma se noi facciamo l'esatto contrario semplicemente avvisa che c'è stato un offset sul nostro fader e quindi in conseguenza dovremo andarlo a azzerare finché non troviamo la posizione noi. E poi come vedete ci viene sempre detto quant'è l'impostazione. Ma ora andiamo un secondo sempre sull'app perché l'app come dicevo è molto interessante perché ha veramente tantissime funzioni. Ma adesso quello che vi spiegherò è come si configura il nostro mixer quindi in maniera veramente semplice, veloce e indolore. Semplicemente il nostro mixer è abbastanza intelligente però la cosa più interessante è che abbiamo due modi di impostazione automatica o manuale. vi basterà cliccare sul nostro ingresso, in questo caso io sto premendo sull'1 quindi andrò a cliccare, adesso magari vi faccio vedere tramite mouse che non fa vedere quindi a posto, andrò a cliccare sul tasto 1, in alto a sinistra dove c'è scritto CMIC e tenendo premuto si aprirà questa schermata. Questa schermata come potete vedere ha diverse impostazioni. Impostazioni tra cui un equalizzatore a 4 bande, il gain del nostro microfono, il low cut, il compensatore e il livello. Quindi livello nel senso si intende proprio il mixer fisico. Andiamo un secondo indietro perché ancora prima di questo dobbiamo andare nella modalità di configurazione degli input. Infatti c'è una comodissima modalità che è questa qui che ho appena selezionato. Basterà cliccare sul nostro ingresso, quindi sull'etichetta dove c'è scritto CMIC e qui potremo andare ad impostare tutto un insieme di varianti, anche qui manuale o automatiche. Possiamo scegliere un preset, ad esempio microfono condensatore, condensatore e in automatico il nostro mixer abiliterà tutto un insieme di impostazioni. Infatti tornando indietro come vedete il nostro mixer avrà abilitato il 48 volt e avremo il guadagno del nostro segnale audio. Quindi in conseguenza possiamo andare a piacimento ad impostare tutto. Ma non solo, non è finita qua, perché un'altra cosa molto interessante è che appunto tornando nel configura input, questa cosa può essere ripetuta su tutti gli ingressi e quindi permettere una configurazione molto più facilitata. Infatti potremo anche scegliere se volete un'icona personalizzata che andrà ad iscrivere il nostro ingresso. Non solo, avremo uno snapshot library, cioè praticamente potremo fare una copia del mixer delle impostazioni, il mixer snapshot che è una configurazione leggermente diversa dove tutte le impostazioni vengono configurate all'interno di questo launchpad. Quindi noi basterà cliccare e si aprirà già in automatico il tutto. E qui ci troviamo ad altre impostazioni veramente molto interessanti. Qui potremo impostare tantissime impostazioni, soprattutto quelle bluetooth, come vedete. avremo il mixer uplink, dove avremo il layer follow o indipendente, avremo lo snapshot up-down, avremo il volume, gli output in fase di decibel e tutto, l'equalizzatore full parametric, possiamo anche metterlo più semplificato, e altre diverse informazioni. Oltre a questo abbiamo anche un routing, un routing a livello di recording e di streaming. Allora, le cose sono due. Essendo che questo mixer digitale, il routing è il classico, detta proprio in maniera bruttissima, quindi tecnici dell'audio abbiate pazienza, ma lo spiego in maniera semplice per chi entra in questo modo. Il routing non è nient'altro che delle sorte di aux, dei vecchi mixer analogici, dove ci permetteva di trasmettere un determinato segnale alzando semplicemente un cross. Però questo ovviamente viene tutto digitalizzato attraverso dei pulsanti, essendo che appunto il mixer digitale. Potremo impostare che gli effetti vengano rimandati solo nel main, senza il monitor, oppure potremo mandare, come vedete, gli effetti anche nel monitor 1, in il monitor 2, oppure fare uno sbilanciato sui fx, quindi sull'fx1 magari non mandare l'effetto sul mon 1, ma solo sul mon 2 e viceversa sul mon 2. E questa cosa è molto interessante. Oltre a questo ci potremo anche mandare, ad esempio, il routing delle USB 1, 2, 3 e 4. Questi sono gli ingressi digitali che potremo mandare su, ad esempio, un programma di registrazione. Audacity, programmi come Sonar o Ableton, tutti quei sistemi che permettono in multitrace, quindi registrare. E stessa cosa possiamo fare anche sui monitor. E stessa cosa anche sullo streaming, quindi non solo sul lato di registrazione, ma anche di riproduzione. Potremo mandare vari effetti, potremo mandare in main, pre-fader, mon, Potremo fare veramente tante, tante cose. Attenzione però a questo stereo link del monitor 1 e 2, perché le uscite che abbiamo sul nostro mixer, cioè le uscite del monitor send, in verità sono dual mono, cioè nel senso qui andranno solo jack mono, non hanno uscita stereo. Per loro quello che si intende come stereo link è semplicemente che va a fusionare i due canali audio, quindi in caso di traccia stereo possiamo andare a fusionare tutto sul dual mono del monitor send. L'ho già provato pensando che stereo link si intendeva che queste uscite erano stereo, invece ho proprio scoperto che è una limitazione questo mixer, ma come tutti i mixer con il monitor send che lavorano in mono e non in stereo. Quindi non fatevi fregare dalla scritta stereo link. ...e trasmettere già in stereo, come state sentendo in questo momento tramite l'ingresso di OBS, che l'audio che state ricevendo è questo audio che è fatto tramite questo microfono panoramico. Microfono panoramico che è questo qui, molto semplice, molto veloce, che ci permette appunto di acquisire l'audio. Ora quello che farò un secondo è mettermi degli auricolari perché devo capire effettivamente quello che sto acquisendo in modo che così so anche quello che vi sta arrivando a voi. E ho appena constatato che il microfono che ho collegato all'inizio ha qualche problema, probabilmente non funziona più tanto bene, si è sentito più fruscio che altro. Però vi posso assicurare che adesso il microfono che ho attaccato è molto, molto, molto meglio. Anche perché stiamo utilizzando un microfono direzionale della Sony, quindi dovrebbe essere ulteriormente meglio l'audio acquisito. E adesso andiamo un secondo a vedere la parte un secondo di equalizzazione. Intanto voglio premettere che ho controllato ora il mio mixer secondario, ho appena scoperto che avevo l'equalizzatore impostato male, quindi l'audio di prima era strasaturato in fatto di alti e di medie. Adesso invece ho impostato l'equalizzatore a zero e quindi praticamente abbiamo l'audio corretto. Ma andando un secondo di nuovo sulla parte di impostazione audio, quindi da parte del singolo canale, come potete vedere, come stavo dicendo prima, l'audio che state sentendo inizialmente è quello proprio del microfono acquisito da questo mixer, semplicemente è in parallelo a un secondo mixer che è collegato via USB al mio computer che acquisisce l'audio. Però come potete vedere abbiamo un equalizzatore che funziona indipendente dal nostro mixer, è un equalizzatore singolo, su singolo canale, ogni canale ha il suo equalizzatore a quattro bande. Abbiamo un taglio in fatto di frequenza, abbiamo il gain che possiamo andare di impostare a piacimento, come vedete possiamo aprirlo e possiamo chiuderlo come vogliamo. Abbiamo il livello di master praticamente, quindi questo è proprio il nostro fader che si muove, solo tramite app, e abbiamo il compressore che come vedete funziona perfettamente ed è molto utile su questo genere anche di microfoni. Tornando invece un secondo indietro, quello che io mi vorrei soffermare è invece il banco effetti. Il banco effetti è veramente espanso, abbiamo due tipologie di effetti FX1 e FX2, sono due banchi dipendenti con loro effetti singoli e adesso me ne farò sentire praticamente tutti. Per abilitare il banco effetti è veramente molto semplice, basterà alzare il fader del master e alzare la parte del nostro canale e come sentite praticamente l'audio è quello esattamente che entra nel mixer, un audio ridoppiato, cioè sdoppiato con riverbero, ma possiamo anche andare, premendo sul tasto FX in alto a destra, possiamo andare a decidere di mettere un delay ancora più lungo, e non solo, anche per permettere di mettere altri generi di delay, come potete vedere, o riverberi. Ce ne sono veramente tantissimi. Abbiamo anche quelli per la chitarra, che adesso in questo momento è inutile sul microfono. Abbiamo altre funzioni di riverbero o di eco, come sentite sono veramente tantissimi. Abbiamo anche l'impostazione del concetto, come se sentite qualche, però semplicemente il delay più espanso. Abbiamo abbiamo bisogno della cattedrale, anche se non è cattedrale, è un minimo assurdo. Questo invece è quello della cattedrale. Tempio. Come sentite ha diversi tipologie di eco, addirittura ha il flanger, con questo bellissimo audio, che possiamo fare tutti gli effetti un po' strani, cose così. Il soft chore, non so com'è, cioè allora, è un po' una sorta di voce robotica, però fa questo effetto un pochettino così. Warm charm, che è un'altra tipologia, come sentite, molto simile a quello precedente. E il deep chore, che anche questo qui, come sentite, ha anche degli effetti che vanno. Vabbè, come sentite comunque, gli effetti che fa sono veramente di diverso tipo. Adesso li abbassiamo un secondo, perché ritorniamo normale, andiamo sull'FX2. Premiamo sempre in alto a destra, FX sul viola, e questi invece sono gli altri delay. Abilitiamo, ovviamente, 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 ovviamente. Ora avete capito, ora avete capito la tipologia, la tipologia di effetto. Possiamo anche aumentare, 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 possiamo anche aumentare. Praticamente stiamo facendo un remix. Ecco, come state sentendo? Ecco, come state sentendo? Ecco, come state sentendo? È proprio un eco che viene memorizzato, è proprio un eco che viene memorizzato, quasi all'infinito svanire. Abbiamo anche l'eco, abbiamo anche l'eco, anche due, anche tre, anche tre, e anche due. E anche due, e anche due, e anche due, e anche due, e anche due. Ecco, praticamente possiamo fare anche dei remix. Ecco, praticamente possiamo fare anche dei remix. Magari abbassiamo un bellissimo audio. Ok, un secondo. Dicevo, possiamo fare anche dei remix, praticamente, dalla nostra voce. Possiamo divertirci veramente a nostro piacimento, e questi effetti sono veramente molto utili. Adesso continuiamo con altri effetti che ci sono all'interno. riabilitiamo il canale, ecco, esatto. Abbiamo il ping pong, abbiamo i vari tempi, anche questo, e poi anche qui possiamo andare a impostare il flanger, il soft chorn, il warm chorn e il deep chorn. Quindi abbiamo sul secondo canale audio tutto un insieme di canali a livello di effetti di tempo, quindi per fare, tipo, tagli. Insomma, avete capito un secondo come funziona questo mixer. Poi, per finire, abbiamo anche l'uscita monitor, monitor che sono veramente molto semplici anche qui all'utilizzo, e poi il nostro mixer, come stavo dicendo prima, si può collegare via Bluetooth. La parte Bluetooth, anche lei, ha tutto un insieme di funzioni, solo che sono limitate. Ad esempio, qui, il gain, il low cut e il compressore sono completamente disabilitati perché fa tutto fede a quello che voi trasmettete tramite computer. Quindi, o computer o tramite Bluetooth. Come vedete, comunque, l'app è veramente molto semplice all'utilizzo. E niente, quindi questo era un secondo il mixer. Andiamo alla parte finale. Ragazzi, questo era il video sul Flow 8, un mixer veramente assurdo dalle tantissime funzioni. Purtroppo, come stavo dicendo prima, molte funzioni sono limitate, ma per 250€ di mixer, o 300€ col bundle della Toman con valigetta inclusa, è veramente molto utile per chi, nel mondo della musica, vuole passare a un digitale, ma vuole imparare con calma. Un'ottima soluzione, come avete visto, è molto open space a livello di funzioni. E per il resto, da computer musica è tutto. Grazie ancora, al prossimo video.